Non è mai troppo tardi per farsi una cultura digitale. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e Registro.it vi guideranno in modo semplice alla scoperta del mondo di Internet. Sono Claudia Mazzanti e in questo video vi parlerò di WhatsApp e vi fornirò alcuni consigli. È tra le app di messaggistica istantanea più conosciute. Nata ormai più di dieci anni fa, è stata comprata da Facebook nel 2014. Va scaricata da store ufficiali. Con WhatsApp possiamo scambiare messaggi con tutti i nostri contatti, i cui numeri sono registrati sul nostro smartphone, a patto che anch'essi abbiano installato la medesima app. Per prima cosa controllate la configurazione di Privacy e Sicurezza. Cliccando su Impostazioni, Account, Privacy, possiamo decidere chi tra i nostri contatti può vedere il nostro ultimo accesso, chi l'immagine del profilo, lo stato, il conferma di lettura, le famose spunte che cambiano colore quando l'interlocutore ha letto il messaggio e cambiarle quando vogliamo. È possibile personalizzare alcune caratteristiche anche per un solo contatto, come ad esempio la suoneria. WhatsApp utilizza la criptografia tra due interlocutori, grazie alla quale nessuno, neppure WhatsApp stesso, può leggere i messaggi scambiati o le telefonate intercorse e la verifica in due passaggi che richiede l'inserimento di un PIN quando vogliamo registrare nuovamente il nostro numero di telefono sull'app. Buona norma è attivare le notifiche di sicurezza. Sarà capitato di essere stati aggiunti in gruppi di cui non si conosce l'identità di tutti i componenti, in questo caso possiamo abbandonare il gruppo. Esiste anche la possibilità di decidere chi tra i nostri contatti può aggiungerci ai gruppi. Se un contatto ha scritto qualcosa di particolarmente sgradevole, abbiamo la possibilità di segnalarlo o di bloccarlo. Scambiamo messaggi di testo, vocali, inviamo foto, video musicali, link allegati e facciamo le videochiamate. Vi ricordiamo di non aprire allegati o link da numeri sconosciuti e anche se doveste conoscerli, siate prudenti. Testi molto lunghi come le famose catene di Sant'Antonio o link a video popolari potrebbero celare al loro interno programmi malevoli, virus, in grado di violare la sicurezza del telefono o addirittura di attaccare non solo l'account che state utilizzando ma anche quelli associati ad altre applicazioni. Per un miglior funzionamento ricordatevi di aggiornare costantemente l'app e il sistema operativo.